Mimmo Calopresti, Fulvio Lucisano, il produttore, pari delle parace, direttore della Lucana Film Commission. Giuseppina Paderniti, direttore del Tg3. Toto Cordaro, assessore della regione siciliana. Antonio Scuderi, CEO di Capitale Cultura. Siamo partiti con un trailer che iniziava con Marcello Fonte, è una bella pelmetta di canna, con la speranza che se ne aggiungano tante anche a questo film. Voi, il microfono è lì, vuoi introdurci in Via della Spromonte, che è esattamente il senso di tutto quello che ci stiamo raccontando, recuperare i valori. È vero, è vero. Grazie, buonasera. Allora, intanto, sai, Spromonte è un racconto, come dire, di una strada, del bisogno di avere una strada. Oggi ho sentito parlare di ferrovie che non arrivano, quello che non c'è, eccetera, ed è una storia vera, per cui in questo paese sperduto, che può essere, che è Africo, ma che può essere qualunque parte del mondo, c'è qualcuno che ha bisogno di una strada per arrivare da qualche parte. E questa strada per arrivare da qualche parte non è solamente il fatto di, come dire, fisico, no? Allora ci mettevano sei ore per arrivare alla marina e avere un medico, negli anni cinquanta, però è ancora qualcosa di più, cioè la possibilità di esistere. Cioè se tu non hai una strada da percorrere nella vita, non sei nessuno, non ci sei, non esiste. E l'idea di, come dire, è partire da questi qui che sono i più lontani di tutti, cioè gli ultimi, no? E l'idea di dire che questi ultimi hanno bisogno. E questi ultimi non sono gli sfigati, quelli che nessuno vuole, eccetera. Magari sono, come si dice nel film, sono quelli che hanno i valori, che hanno la poesia, che hanno voglia di stare al mondo, no? E hanno diritto di stare al mondo. E questa cosa qui è una metafora anche per me del sud. Questo film nasce perché il maestro Lucisano, come dire, l'ha voluto fortemente. Lo ha voluto dedicare alla gente di Calabria, ma nella sua testa, dedicarlo a qualcuno, no? Che fa parte della sua storia. Io dico sempre che è un film dedicato ai nostri padri e lui l'ha dedicato a suo padre, ai fratelli di suo padre. Perché, come dire, quello che noi siamo, che vogliamo essere, no? Il nostro esistere è fondamentale. Questo film fa tutto questo percorso e quindi è la battaglia per avere questa strada, che è una strada in cui tutti noi abbiamo bisogno. Io dico sempre una cosa, che forse il cinema ha una grande potenza, che è quello di mettere al centro della sua attenzione ogni persona, no? Con il suo nome e con il suo cognome, tutte le volte, è che quella persona lì, in qualunque condizione viva, in qualunque modo sta al mondo, ha diritto del suo tappeto rosso qualche volta, no? E allora il cinema qualche volta questa cosa riesce a farlo. E devo dire che questa volta io mi sento molto tranquillo, prima di uscire un film tutti abbiamo paura. Che succederà? Perché è un film su cui Fulvio Lucisano ha investito se stesso, i suoi soldi, la sua vita, la sua attenzione. Il suo cuore. Eh? Il suo cuore. Il suo cuore. E questa cosa qui mi rende tranquillo, perché credo che lo farà arrivare lontano. Fulvio, ci racconti qualcosa? Che cosa ti aspetti da questo film? Ma io credo che questo film deve far conoscere al pubblico, al grosso pubblico, perché io penso di fare delle grandi uscite adesso cinema, il mezzogiorno, specialmente la Calabria, che è sconosciuta completamente al resto d'Italia. Nella mia famiglia quattro fratelli e mio padre hanno partecipato alla guerra mondiale. Sono tornati tutti, per fortuna. Io credo che noi dobbiamo mettere maggiore attenzione su quello che riguarda il Sud. Adesso sentivo prima un commento che faceva Napolitano. L'alta velocità si è fermata, Cristo si era fermato a Eboli, Cristo si è fermato a Salerno. L'alta velocità, io ho partecipato al raddoppio del binario, Salerno-Reggio Calabria, di 40 anni fa. Così siamo rimasti, non c'è il raddoppio del binario, non c'è niente. L'autostrada è sempre una chimera all'ustre, non è mai finita, deve sempre fare dei rattoppi delle cose che non finiscono mai. Al Sud non viene dedicato minimamente nessuna attenzione da parte di questo governo e di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni. anni fa. Ma alla fine il cinema è quello che vale, quindi il cinema che racconta è esattamente la risposta, è quello che diceva Mimmo nel migliore dei modi. Io credo che il cinema sia cultura e che credo che una volta c'era, quando è stato scoperto il cinema, c'erano le sale comunali addirittura. Oggi non ci sono più. In Calabria non ci sono più sale comunali e nelle province principali ci sono due o tre multisale, punto e basta. È assurdo, francamente. Senti, una cosa sola, vai tranquillo Mimmo. Volevo dire, ti voglio dare una notizia, che Fulvio Lucisano non è mai contento, quindi continua a investire, a aprire sale. Mi hai fatto spoiler. Mi hai fatto spoiler. Una sale in Calabria, non vuoi aprire adesso? No, no, a Brindisi. A Brindisi è aperto. A Roma continua a recuperare sale che venivano abbandonate, le ristruttura e continua a... Ci crede, ci crede lui, capito a tutto questo. E poi bisogna fare i film da mettere dentro le sale, come dice giustamente. Ti ha scritturato per il prossimo. Una cosa e poi passiamo e ritorniamo poi sul film. Ha un colore particolarissimo questo film, antico. È un colore di radici. Vorrei che tutte e due, tecnicamente e da produzione, mi diceste le sceglie. Quando mi è stato portato il libro da un maestro... Dove sta? No, no, come si chiama? Lo sculturo è lì. Ah, Gerardo Sacco. Gerardo Sacco. Che salutiamo. Ci ha messo insieme. Ci ha portato il libro lui. Questo libro, io sono andato a controllare poi, che l'autore di questo libro sembrava condannato da 50 anni di galera, eccetera, eccetera. È una nominia di nome e di fatto, praticamente. Però poi mi sono andato a controllare che cosa c'era. C'era un film fatto precedentemente, indovina da chi? Da De Santis, quello di Riso Amaro. Subito dopo è andato a girare la stessa storia, più o meno, in Jugoslavia. Con attori straordinari, ma non ha fatto una lira, perché era un brutto film, purtroppo. Mi dispiace per... Allora, lascio al divanetto di qua e poi ritorniamo al divanetto di là. Giuseppina, questi film ci ricordano da dove veniamo, quelle che sono le nostre radici, quelle che è la nostra tradizione, la nostra cultura. Il presidente Foti diceva che appunto la Magna Grecia non è solo il nostro glorioso passato, ma è la nostra frontiera, il nostro futuro. Cioè il nostro futuro parte dalla riscoperta dei nostri valori, che sono anche quella fatica, quel sudore, quelle persone semplici, ma di un animo nobile e antico. Tu da siciliana, cosa pensi, una siciliana affermata, che ormai ovviamente per motivi professionali ha vissuto a Bruxelles, che ora vivi a Roma. Quale pensi sia la chiave della nostra rinascita? Diciamo che tutte le volte un po' che penso alla Sicilia e mi ritrovo insomma tornando a casa, che per me rimane casa, diciamo, sono di Capodorlando, Mi torna in mente un po' il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa, perché nel gatto pardo c'è, come dire, la descrizione dei siciliani con questa consapevolezza di essere dei. Noi siamo gli dei, noi siamo dell'Olimpo, quindi noi sappiamo, no? E questa consapevolezza, noi la troviamo, insomma, con queste radici di cultura e quindi anche di valori, nelle persone più semplici. Devo dire che è proprio nella, dalle persone più semplici a quelle che hanno più cultura. Cioè tutti hanno questa consapevolezza e questo modo anche di vivere e di interpretare quei valori che hanno caratterizzato un po' questi mondi antichi, no? Al punto che quando, diciamo, si fa una passeggiata nel corso, la cosa divertente, è che tutti parlano dei greci e dei romani come se fossero i cugini di qualche giorno prima, insomma. Ci hanno lasciato appena da poco. Quindi c'è questa consapevolezza di parlare della magna grecia, dei resti, eccetera, questa dominanza proprio. E quasi con un velo davanti, nel non sapersi proiettare invece nel mondo di oggi. Il problema reale, secondo me, è proprio questo. Questa incapacità di fare rete e di capire che oggi la cultura ha bisogno di una rete per potersi esprimere e che per reinterpretare oggi il ruolo che la Sicilia culturalmente ha avuto, cioè di essere un ponte tra le civiltà del Mediterraneo, perché lo è stato. E quindi è l'avamposto dell'Europa nel Mediterraneo per un dialogo nel Mediterraneo che si apre anche a uno sviluppo nuovo. Bene, su questo dobbiamo dire che c'è, grava, questa incapacità di fare rete. Da cosa dipende? Ce lo siamo detti tante volte qui. Il dibattito è stato molto interessante da una mancanza di mentalità, dal fatto che forse anche quelli che sono più predisposti ad affrontare in termini più organizzati il tutto vanno via e vanno via per studiare, per lavorare e probabilmente anche da questo immobilismo che ormai grava pesantemente su questa isola, insomma. Noi ci ritroviamo a raccontare spessissimo come TG3 molto il sud, no? E a raccontarlo anche nelle sue espressioni migliori. Nido di seta ha fatto parte della nostra indagine sulla cultura dell'innovazione che c'è, dunque sulla sostenibilità anche che le imprese sono in grado di esprimere. Non è in grado la macchina amministrativa di supportare questo sforzo. Non è in grado perché, diciamo, se oggi noi parliamo di turismo e di sviluppo della cultura stiamo peggio di 40 anni fa. Per fare da Palermo a Capodorlando in treno, 40 anni fa ci volevano due ore e oggi ce ne vogliono due e mezzo. Quindi qualcosa significa questo. È così. Tutto si ferma sullo stretto di Messina perché è vero che non c'è l'alta velocità ma dalla Calabria in poi riesci perlomeno a muoverti. Certo poi si va più veloce da Salerno in su ma è drammatico vedere anche lo stato delle nostre strade. Ci sono in Sicilia delle province completamente isolate. Agrigento è quasi irraggiungibile. Sta molto peggio di una volta. E parlare di cultura in questi luoghi è molto arduo perché anche a promuovere attraverso il turismo non c'è possibilità alcuna. L'aeroporto di Trapani non ha più i voli che avevano fatto il decollo della città con un incremento del 200% di turisti al primo anno della Ryanair. L'aeroporto è praticamente chiuso. Ci sono pochissimi voli. Chi aveva investito in bed and breakfast e strutture turistiche ha dovuto fermarsi. Quindi una responsabilità che porta a una firma c'è. Ci sono anche da parte di alcuni amministratori c'è anche l'intelligenza di guardare in qualche modo al futuro. Penso al problema che abbiamo noi oggi per primi essendo un'isola ed essendo il Mediterraneo davanti a questa crisi climatica. Eppure ci sono comuni che hanno messo insieme progetti, risorse per salvare le coste e sono i soldi e i progetti che non diventano esecutivi perché sono fermi alla regione. Sono mesi che si va avanti così. posso fare anche diciamo avendo una cognizione da giornalista so anche quali sono le zone. Quindi i problemi esistono davvero. Non è vero che non esistono. Più volte ho detto e vado a concludere no, occorre veramente come si dice un'iniziativa grande sul territorio perché le idee ci sono ma non ci possiamo fermare diciamo alle piccole iniziative che guardano solamente diciamo al locale. Devono sapere parlare come Sud dobbiamo sapere parlare non solo all'Europa ma anche ripeto riscoprendo il significato del Sud che il Sud ha avuto nel Mediterraneo si può partire da quei valori per cominciare a gettare ponti per le imprese penso a tutte le energie rinnovabili eccetera ma per farlo occorre un progetto quindi a mio avviso quello che manca davvero è la progettualità e il sostegno a questa progettualità. Scuderi in dieci minuti cinque dieci minuti Scuderi volevo fare una domanda a Scuderi poi tu vieni dopo Scuderi è anche abbastanza fortunato in questo dibattito perché nel suo brand nella sua vocazione nella sua missione ha probabilmente la risposta a molte domande quindi io vorrei capire innanzitutto vorrei che spiegassi che cosa fa Capitale Cultura che cosa è e poi come si pone rispetto alle problematiche di sviluppo del mezzogiorno attraverso appunto la cultura. Grazie Capitale Cultura è un esperimento di impresa che oggi però è un piccolo gruppo con una presenza internazionale che ha un obiettivo mettere assieme la cassetta degli attrezzi dello sviluppo d'impresa dello sviluppo industriale e la cassetta degli attrezzi della cultura della creatività e dell'eccellenza dei territori. Noi affianchiamo istituzioni culturali imprese e territori non solo in Italia ma anche in Svizzera e mettiamo a disposizione metodologie e competenze con l'obiettivo di accelerare i fattori competitivi di quei luoghi di quei musei di quei territori è un lavoro che usa molto la comunicazione molto la tecnologia e molto la metodologia dello sviluppo di imprese quella cassetta e gli attrezzi ma questo lo facciamo nella consapevolezza del fatto che quei signori lì che sono all'altra parte sono rappresentanti eccellenti di una roba che si chiama impresa culturale creativa che vale il 6% in Italia del prodotto interno lordo e del valore aggiunto soprattutto che si crea e che ispirano non solo la loro arte ma ispirano l'arte e la creazione di valore aggiunto di imprese manifatturiere di innovazione tecnologica che oggi sempre di più lavorano sul proprio fattore di sviluppo culturale meno sul prodotto meno sulla catena produttiva meno sulla manifattura perché ovviamente siamo meno competitivi su quel fronte lì ma assumono più creativi e più esponenti della cultura per lavorare nelle loro aziende l'economia italiana dice l'ultimo rapporto simbola si sta culturalizzando dei 600.000 addetti specialisti della cultura e della creatività diciamo dei molti dei milioni di specialisti della cultura e della creatività 600.000 lavorano in imprese non culturali il fattore di moltiplicazione di un euro investito in cultura è 1,8 quindi se il valore aggiunto creato dal sistema culturale creativo che comprende anche il nostro mondo della comunicazione i giornali i libri io ho fatto l'editore per tanto tempo e il giornalista e quindi come dire da lì venivo e da lì sono tornato occupandomi di patrimonio culturale questo settore genera 100 miliardi di valore aggiunto ma ne produce altri 250 come effetto volano dove si concentra questa creazione di valore ovviamente in Lombardia e Lazio neanche a dirlo e poi ci sono delle regioni emergenti come le Marche non è un caso perché le Marche hanno anche avuto un terremoto ma continua a generare valore aggiunto nel settore culturale il mezzogiorno soprattutto la Sicilia io nacque in siciliano poi mi sono andato in giro per il mondo però nacque e rimase in siciliano il sud del mezzogiorno nonostante una straordinaria materia prima Sicilia-Calabria in particolare quindi culturali patrimonio culturale materiale immateriale ambientale capacità creativa questo fattore di moltiplicazione ce l'hanno molto basso e nonostante aumentino i flussi turistici l'impatto dei settori culturali e creativi sull'economia è bassissimo e qui ragazzi Palermo è piena di turisti grazie anche alla capitale della cultura grazie a delle scelte giuste però è piena di turisti io lo vedo la mia Catania è piena di turisti però non riusciamo a moltiplicare questo fattore non riusciamo a scaricarlo a terra allora gli esercizi di futuro di ieri per me sono stati illuminanti perché nella la vita di chi fa impresa non è una piramide egizia dove scali 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 e poi cadi è una piramide azteca ogni giorno fai una cosa impari sbagli torni indietro e purtroppo è così e ieri questa immagine mi è tornata in mente quando ascoltavo gli esercizi di futuro e diciamo dobbiamo ripartire da lì ho rivisto e ho tante cose che noi effettivamente sperimentiamo nel nostro lavoro di sviluppo di imprese culturali e creative sul territorio di promozione dei territori ho rivisto il fatto che le grandi formule istituzionali non funzionano più il il perimetro regionale anche di un grande comune sono troppo grandi oggi bisogna lavorare su territori più piccoli su laboratori più piccoli attivare e poi moltiplicare sbagliare prototipare e poi applicare questa è una delle cose che ho imparato ieri vi confermo che nel mondo della cultura e dell'impresa culturale è così effettivamente ricordo un'esperienza di cantieri culturali e quindi di laboratori territoriali di sviluppo culturale nelle marche dove come dire ogni 10 posti di lavoro poi alla fine se ne sono creati centinaia di posti di lavoro bisogna e vado a chiudere contaminare in maniera molto forte l'innovazione tecnologica e l'industria culturale creativa se non fai lavorare assieme questi due mondi ieri Poli parlava di processi spinti di digitalizzazione dei territori per accelerarne il potenziale competitivo oggi da questo non si può prescindere è del tutto chiaro funziona quando in territori anche piccoli fai lavorare assieme istituzioni imprese creative talenti e imprese innovative proprietà intellettuale e le istituzioni fanno la cabina di regia gli atti amministrativi sono ridotti al minimo guardate che fare un bando di appalto nel mondo di comunicazione piuttosto che per servizi di marketing culturale è complesso quasi come fare un bando di appalto nel mondo delle infrastrutture questo non ha alcun senso c'è un eccesso di tutele alla follia in questo settore se pensiamo che sia il fattore uno dei fattori fondamentali dello sviluppo dei nostri territori e che lo sia soprattutto per il sud dobbiamo accorciare la catena amministrativa far sì che le istituzioni siano cabine di regia leggere e poi liberare la capacità di lavorare su progetti concreti e risultati le istituzioni le imprese creative e le imprese innovative nella mia esperienza questo dispositivo funziona non crea subito centinaia di migliaia di posti di lavoro li crea uno a uno ma è come nei giornali i lettori li pigli uno a uno gli spettatori per un film li pigli uno a uno e come diceva prima uno degli intervenuti l'Italia è questa bottega artigiane ma quando fanno rete diventano industria mentre parlavi prima che lo dicessi avevo la certezza che fosse un giornalista e ci deve essere qualcosa nel narrare probabilmente siamo abituati a narrare c'è questo storytelling che adesso è diventata la base di tutto ma che è fondamentale Giuseppina giornalista ormai è manager e fa un lavoro da manager tu giornalista sei manager e c'è un altro giornalista che ho conosciuto giornalista che è diventato un grandissimo manager Paride è arrivato a Matera e a Potenza a Lucana Field Commission prima che ci fosse veramente qualcosa di importante e lui ha fatto esattamente quello che dicevate io mi sono segnato un po' di appunti fare rete progettualità cassetta degli attrezzi creazione di un valore aggiunto creatività sembrava che ti volessero avviare e ti volessero aprire allora la tua esperienza nella Lucana Field Commission è una grande esperienza e potrebbe essere anche un metodo ed è la ragione per la quale tu non potresti non essere qua a questo tavolo perché la tua è esattamente l'esperienza che bisognerebbe replicare questo pensavamo mentre progettavamo su De Futuri ci racconti come fare ci dai qualche suggestione per iniziare a farlo insieme sì grazie visto che hai citato la mia esperienza cosa giornalistica e visto che se ne è parlato permettimi di ringraziare la famiglia D'Odaro perché se io sono diventato manager che se la cava diciamo è perché sono stato uno dei direttori del gruppo D'Odaro che ha avuto quella totale piena libertà per fare dei giornali che hanno molto modernizzato la Calabria hanno aumentato gli indici di lettura quindi vengo dalla e quindi questo ringraziamento è doveroso come è doveroso il ringraziamento alla fondazione Magna Grecia perché questo convegno è veramente di grandissimo livello vedo con piacere da operatore dell'immagine che è stato acquisendo tutti gli atti in forma visiva e abbiamo una famosa cassetta degli attrezzi che può molto essere utile a tanti perché abbiamo bisogno di confrontarci io da Calabrese non conoscevo la storia di San Flore che è una storia strepitosa dovresti farci un documentario o un film è veramente incredibile ho vissuto una seconda vita professionale per me che amavo il cinema ero un cinefilo ho fatto un po' di critica ho studiato anche cinema che mi ha molto aiutato nel giornalismo in particolare una scuola di sceneggiatura con uno degli sceneggiatori di Ferreri la mia scrittura è stata formata anche da quello e quindi in Basilicata che è una regione molto virtuosa del mezzogiorno e ha degli aspetti che è bene confrontare con le interessanti relazioni che abbiamo abbiamo sentito io credo che due fattori determinanti della Basilicata siano un altissimo capitale umano non a caso prima era citata in una relazione del che ci ha preceduto c'è una grande tendenza di associazionismo e in varie stagioni la politica ha saputo legarsi a un mondo produttivo particolare dalle origini contadine e poi la quasi assenza di criminalità organizzata che la rende diversa dalle altre regioni confinanti del del meridione in questo è nato un grande sogno e oggi bisogna tutelare questo risultato acquisito non ho portato slide però sette numeri li voglio dare sull'esperienza di materia capitale europea della cultura tenete conto che la Basilicata ha circa si dice 600 mila abitanti effettivi sono 500 mila quindi è la popolazione di un quartiere di Roma o di Napoli però in una regione molto ampia più grande in estensione della Liguria per esempio con dei paesaggi straordinari che fanno parte di questa componente quest'anno con la capitale europea della cultura le stime sono un po' ballerine ancora però parlano di 547 mila presenze cioè i visitatori sono stati più degli abitanti della Basilicata dieci anni fa erano 133 mila le presenze turistiche 700 eventi sul territorio non solo a Matera perché è stata ideata la manifestazione capitale per un giorno tutti i paesini e paesi e cittadini della Basilicata parliamo anche di paesi di 700 abitanti 1500 abitanti per un giorno sono capitale e ognuno ha sviluppato una cosa di territorio dove attirano turisti c'è stato questo processo virtuoso a Matera sono stati coinvolti dal basso dall'esperienza della candidatura fino ad oggi 16 mila cittadini 18 mila balconi hanno la bandiera di Matera capitale della cultura c'è un grande orgoglio identitario ovviamente da appartenenza il giorno in cui fu designato e si aspettava come una partita di calcio chi era la capitale europea a Siena c'erano 30 persone nella piazza di Matera c'era tutta la Basilicata con i sindaci in testa è stato questo il processo che si è avviato 44 milioni di investimento e soprattutto 2 milioni e 400 mila contatti sui social che hanno portato Matera e la Basilicata del mondo non vi dico New York Times i grandi giornali insomma una grandissima operazione come è nata questa storia e perché è esaltante Matera lo sapete perché tutti quanti ci siamo confrontati era la vergogna d'Italia lo disse Togliatti e De Gasperi andando là anzi Colombo mi ha raccontato il ministro Colombo che De Gasperi gli disse ma dove mi hai portato quando ha visto come vivevano le persone Lizzani il suo primo documentario lo fa a Matera perché era una cosa dell'altro mondo per stare al cinema Rocco e i suoi fratelli del grande maestro Visconti che racconta l'epopea dei Lucani a Milano quindi di tutti i meridionali c'è una scena quando arrivano loro dal treno era lunga la via già dalla che cercavamo una strada arrivano in questo scantinato passano il cortile alla portiera tipicamente milanese e chiede all'amica ma da dove vengono questi eh Lucania dove sta Lucania Africa tutto quello oggi è diventato un'eccellenza perché nei sassi della vergogna d'Italia oggi trovi alberghi luxuri da migliaia di euro dove vengono gente da tutto il mondo per fare cosa per vivere un'esperienza è un turismo esperenziale bisogna stare attenti al turismo di massa è il grande gioco di oggi per rimettere al centro il meridione perché c'è un meridione vincente ma se Matera diventa Disneyland o Venezia è rovinata perché è un ecosistema antichissimo Matera quasi come Macondo c'era da quando l'uomo ha visto il fuoco ed è vero perché di fronte Matera si poggia su questo uno dei più antichi insediamenti umani e sulla questione dell'acqua che l'ha fatta diventare patrimonio unesco e con quella sapienza siamo arrivati ad oggi fondendo queste due cose il cinema è stato fondamentale è stato molto importante molto è cominciato a cambiare con De Pesce c'era la congiunzione perfetta il film giusto al momento giusto milioni di persone che l'hanno visto da quel momento almeno 20-25 mila americani sono cominciati a venire a Matera e tutto questo ha cambiato moltissimo ha fatto capire tantissime questioni poi c'è stato Basilicata che ha rivelato agli italiani finalmente dove era la Basilicata come era bella però salmente non c'era una film commission era l'ultima però è stato importante che era l'ultima perché abbiamo acquisito abbiamo potuto vedere Puglia Sicilia modello spesso virtuoso Piemonte il suo Piemonte il suo Piemonte e quindi su quel modello abbiamo costruito un alto basso aperto a tutti i generi a tutte le sperimentazioni coinvolgendo chi vuole fare il cinema perché non è più come la generazione mia di Mimmo che per fare il cinema dovevi stare a Roma sì devi stare nel mondo ma oggi la tecnica si è abbassata la demistificazione anche i costi è una cosa problematica ne parleremo in un altro convegno non è qui il caso permetto di fare il cinema tu puoi andare a specializzarti a Los Angeles e il cinema l'audiovisivo è un mestiere che ti permette di tornare e di fare delle cose poi noi abbiamo trovato Francis Ford Coppola spesso scusate se è poco e quindi tutti questi ingredienti hanno permesso di avviare delle politiche virtuose nel cinema gli studi di settore dicono che per un euro che investi ne raccogli almeno sette questo è sicuro al di là di come va il film perché tu portare delle troupe da tutto il mondo poi in Basilicata al sud vivi bene non sono i cestini che trovi con tutto il rispetto di Varese mangi sei bene l'ora solare è lunga le stagioni pure puoi girare ad ottobre a novembre sono tutti elementi di vantaggio poi le persone sono molto accoglienti i lucani sono anche molto discreti quindi stanno questi paesi vengono rianimati dal cinema sono molto rispettosi però l'economia ti cambia noi abbiamo fatto un paese quasi perfetto in due splendidi paesi delle tolomiti lucane e in questo paese hanno lavorato tutti per un mese il bar che stava aperto tutta la notte l'indice economico ma anche di gratificazione di questa cosa è stato straordinariamente alto quindi noi siamo riusciti con grande dedizione e con grande pazienza ad avviare questo processo virtuoso che ha ingrociato anche Matera 2019 e il cinema è stato importante perché Mimmo ha visitato e si ricorda quando lanciammo il grande tema dei 50 anni perché c'era stato Pasolini a Matera quindi ci siamo ricordati che erano 50 anni di questo straordinario film il Vangelo secondo Matera e quindi abbiamo fatto una grandissima mostra in uno dei più bei musei di Matera e quando i commissari europei hanno dovuto decidere qual era la capitale hanno visitato quella mostra e quella cosa ha influito e ha ingrociato l'osservatore romano che avrebbe detto che quel film probabilmente era il più bel film sulla storia di Cristo ho ingrociato anche il maestro Lucisano permettetemi di ringraziarlo perché con lui ho fatto noi e la Giulia tre Davide di Donatello ma soprattutto quello che mi ha insegnato lui nel cinema è qualcosa di straordinario abbiamo potuto incontrare persone di questa levatura e di questo tenore però la cosa a cui tengo di più e incrocio uno dei temi del dibattito è stata quella del credito noi diamo fondi pubblici e abbiamo stretto un accordo con un credito cooperativo dove per fortuna c'è una banchiera donna è un direttore devo dire di origine calabrese di Soverato che ci permette perché i fondi pubblici camminano lenti lo sappiamo le nostre procedure sono complesse i finanziamenti dei nostri bandi permettono con questa banca di dare l'80% di anticipo e poi il titolo viene scontato oltre che fanno una sponsorizzazione ai film ai cortometraggi questa è un po' la nostra storia e adesso continuerà speriamo di aver fatto bene ora finalmente passiamo all'assessore Cordaro che scalpitava ovviamente perché il dibattito è talmente interessante che ha voglia proprio di intervenire e c'è questa strada magica che parte dal film di Calopresti parte dalle suggestioni del cinema da questo mondo antico ma anche fatato passa alle problematiche attuali poi attraverso la comunicazione il marketing ripassando da Matera diventa anche opportunità di sviluppo e di crescita in tutto questo qualcuno diceva secondo me ha ragione che la Sicilia è la regione più bella d'Italia probabilmente questo come lo vivete voi quale orizzonte vi ponete anche perché credo che la delica sia territorio e ambiente insomma con la cultura sono i nostri grandi tesori sì intanto grazie desidero ringraziare la fondazione Magna Grecia e chi ha organizzato questa ottima assise che ha messo al centro questi temi così importanti e soprattutto perché l'avete realizzato a Palermo e quindi è una ragione per dirvi un grazie sentito io credo che una classe di governo che voglia far ripartire il mezzogiorno e la Sicilia dalla cultura non possa più essere approssimativa probabilmente in Sicilia negli ultimi anni abbiamo visto dalle parti del governo molta approssimazione per questa ragione io credo che il primo tema vero sia un governo competente che abbia interlocutori competenti a tutti i livelli allora alcune precisazioni veloci ho ascoltato il dibattito precedente e anche quello che degli interlocutori che mi hanno preceduto è vero Trapani probabilmente è stata un'operazione sbagliata perché finisce per essere un doppione a perdere di Palermo però è anche vero che Palermo ha il trend più positivo d'Italia in termini di turisti che atterrano siamo quasi a 5 milioni e mezzo e Catania conferma un trend assolutamente positivo 9 milioni e 900 mila stranieri ed italiani che transitano da quel aeroporto questo è il governo che ha in assoluto investito di più in termini di infrastrutture e soprattutto in termini di 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 sesto idrogeologico quando io sento dire ad una giornalista importante come la dottoressa Paterniti che le pratiche sono ferme alla regione ecco temo che stiamo sbagliando l'impostazione è il sindaco di Messina immagino il mio amico De Luca che è molto scalpitante come si diceva poco fa è ancora peggio il sindaco l'ottimo Bruno Mancuso no chi è quello è Sant'Agata comunque andiamo al tema l'ottoressa Paterniti è brava mi vuole distrarre ma non ci riuscirà in realtà sapete cosa accade che abbiamo investito 485 milioni di euro per recuperare il dissesto e il ripascimento delle spiagge ci siamo inventati qualcosa di nuovo che si chiama contratto di costa che vuole servire proprio ad evitare la parcellizzazione degli interventi e vuole lavorare per dare risposte territoriali programmatiche di grande vision in realtà il tema vero è che siccome ho firmato io la direttiva che impone alla commissione di dare delle priorità e di svolgere entro 60 giorni il parere di redigere il parere che riguarda alcune priorità che riguardano soprattutto le attività degli enti pubblici quindi il ripascimento e quindi le infrastrutture e quindi le vie di comunicazione e quindi i siti che devono occuparsi della raccolta dei rifiuti io credo che qualche sindaco probabilmente farebbe bene a confrontarsi col governo regionale che lo accoglierebbe e ne parlerebbe con grande volontà di soluzione dei problemi d'altro canto devo dire che se il film di Calopresti e del maestro Lucisano guarda i nostri padri così come ascoltato io credo che il nostro dovere sia quello di guardare verso i nostri figli poc'anzi Michela Giuffrida diceva da sei mesi attendiamo l'applicazione della direttiva europea che ha approvato il tema dell'insularità da tre anni mi veniva da sorridere lo stesso perché noi da 70 anni attendiamo l'applicazione degli articoli 36, 37 e 38 dello statuto siciliano che determinerebbero l'autonomia impositiva per cui chi produce in Sicilia paga le tasse in Sicilia e credo avrebbe risolto in 70 anni parecchi problemi che lo Stato non ci sia amico probabilmente questo è un tema non so se questo governo ci sarà amico e però noi andiamo avanti lo stiamo facendo stando sul pezzo e lo stiamo facendo anche valutando alcuni temi che sono quelli che credo siano mancati fondamentalmente in Sicilia negli ultimi 30 anni la parola pianificazione è questa sconosciuta la parola pianificazione nell'ambiente la parola pianificazione nelle infrastrutture un incidence le strade in Sicilia non sono gestite dalla regione questo è un grande mito le strade in Sicilia sono gestite dall'ANAS che è di competenza nazionale poi sono di competenza delle province non ci sono state strade di competenza regionale e però noi anche di questo ci stiamo occupando e ci vogliamo occupare perché come diceva bene l'avvocato Bonsignore prima le nuove province siciliane stanno diventando nuove arcipelaghi purtroppo andiamo avanti non andiamo indietro non diciamo di chi è la colpa diciamo e stiamo lavorando perché l'ANAS si accorga anche della Sicilia e ci metta finalmente mano siamo felici se il ponte di Genova è già costruendo vorremmo che dopo cinque anni il ponte sul fiume Imera diciamo partisse per la sua ricostruzione stiamo lavorando anche a questo però ecco la riflessione che facevo io oltre ad un tema legato proprio a una cultura dell'ambiente che in questi anni è mancata noi in un anno e mezzo o due anni devo ringraziare i miei dirigenti altro incident la burocrazia e la burocrazia è uguale a tutte le altre classi ci sono burocrati pavidi e burocrati coraggiosi burocrati ignoranti e burocrati competenti come ci sono politici avvocati giornalisti per cui anche questo tema così generalizzato credo che non aiuti a focalizzare bene il problema io credo di aver avuto la fortuna di trovare sul mio cammino burocrati competenti avveduti prudenti qualche volta magari troppo mi viene rimproverato però diciamo io credo di poter dire che la somma e quindi il totale sarà positivo e per questa ragione ad esempio e chiudo questo primo giro con un esempio ci siamo posti un tema che non era quello dicevo guardare ai nostri padri per immaginare il futuro dei nostri giovani dei giovani che vanno via dopo la formazione universitaria ma il tema dei giovani che vanno a formarsi fuori perché hanno la consapevolezza che il ranking delle nostre università purtroppo li presenta al mondo del lavoro con una possibilità di accesso pari quasi a zero e allora noi abbiamo messo attorno a un tavolo le tre infrastrutture di ricerca più importanti che sono riconosciute dal PNIR che è appunto il programma nazionale di infrastrutture di ricerca e cioè INFN l'istituto nazionale di fisica nucleare e RIME DISMET e CNR e abbiamo immaginato un ATS che ci farà determinare ci porrà nelle condizioni di realizzare siamo già avanti un progetto siamo stati perché abbiamo in questo anche la collaborazione di Intesa San Paolo siamo stati a Torino a conoscere come funziona l'innovation center di Intesa San Paolo vogliamo fare al Roosevelt a Palermo in Sicilia a 5 km da qui un grande centro internazionale della ricerca un grande incubatore di imprese che ponga le condizioni al fine di mettere insieme innovazione ricerca formazione credito al servizio delle imprese delle start up al servizio di quei giovani che non soltanto devono formarsi ma che devono trovare ragioni concrete per poter restare in Sicilia ed immaginare uno sviluppo della nostra terra uno sviluppo possibile uno sviluppo 3.0 questo è un esempio delle cose che stiamo facendo perché in questi anni abbiamo dovuto occuparci di autorità di bacino che non esisteva e l'abbiamo dovuta istituire con 28 anni di ritardo rispetto al resto d'Italia di piano della qualità dell'aria che non c'era e per la prima volta l'abbiamo fatto noi nel luglio del 2018 di piano delle alluvioni che non c'era di piano per la mitigazione dell'inquinamento acustico che non c'era di messa in sicurezza delle zone aerca le aree ad elevato rischio di crisi ambientale che non c'era e l'abbiamo fatto di ispezione nelle zone RIR ossia le zone a rischio di incidente rilevante perché noi abbiamo le zone che hanno il pericolo di incidente rilevante in Sicilia burocrazia ma la burocrazia non lo so noi stiamo andando come dei treni su temi che probabilmente non ci porteranno applausi ma credo di meritare io e questo governo la considerazione grazie ti sei preso anche l'applauso però allora eccoti qua tu da un po' di anni sei un ragazzino però da un po' di anni fai cinema questo è un film importante però mi corre al di là di quello che succederà con il film e del tanto che tu pensi che il film darà all'Italia a Mimmo a te mi piacerebbe che proprio tu che tanto è costruito nel cinema ci dicessi che cosa vedi come futuro del cinema e del tuo grande impero cioè quali sono i passi successivi il pensiero successivo io credo sempre che il cinema vada consumato prima di tutto nelle sale il coso principale è questo qui prima c'erano i comuni ogni comune aveva la sala comunale adesso non esistono più allora bisogna riportare il cinema nelle sale per educare i giovani andare al cinema uscire di casa perché se no sempre stanno davanti al televisore è importantissima la televisione è importantissima l'educazione che dedica la televisione però la sala cinematografica è la prima educazione secondo me per i giovani per farli uscire di casa e non essere schiavi del telefonino o dell'apparecchio televisivo io ritengo che la cultura vada portata principalmente costruendo un pochino di quelli che sono io per esempio vedo moltissimo benissimo Rai Storia fa delle cose stupende bellissime che noi non vengono apprezzate come dovrebbero essere apprezzate e io credo che questa sia portare la cultura nel cinema nella cultura contenitori contenuti insieme che vadano insieme esatto mi auguro che il governo intervenga per esempio io per avere costruire una sala a Roma ma anzi una sala a Brindisi tre anni per avere altre tre sale è una cosa allucinante con i comuni con tutto quello che lo comporta bisogna che sia facilitato questo compito da parte delle istituzioni e questo non avviene bisogna che il governo intervenga veramente su questo qui il cinema e cultura io spero che venga accolto questo mio messaggio grazie grazie a te anche perché io aggiungerei che il cinema è Fuglio e Lucisano e grazie davvero per essere venuto a Palermo Alessandro Scuderi questo secondo giro deve essere un po' più rapido così poi Scuderi si dice sempre che con la cultura non si mangia tu credi che invece si mangi? con la cultura mangiano un sacco di persone in questo paese e poi se ci mettiamo il turismo siamo oltre il 14% del prodotto interno lordo dell'occupazione per cui sicuramente ci mangiano alla grande più che nella logistica più che nella chimica se li mettiamo assieme e non li possiamo non mettere assieme questi due questi due comparti dobbiamo metterli assieme sicuramente ci mangiano un sacco di gente è il paradigma di sviluppo che è un po' diverso è la metodologia che è diversa non si può applicare alla cultura all'industria culturale creativa anche quando lavora in fortissima sinergia e più è sinergico e meglio è con altri settori come il turismo come la manifattura non si possono applicare gli stessi criteri di sviluppo che si applicavano una volta nei modelli industriali sono i criteri di sviluppo e le metodologie di cui si parlava ieri negli esercizi di futuro sono perfette quelle metodologie risultati piccoli ma continui semplificazione modelli di sviluppo veloci le istituzioni soprattutto a livello regionale hanno un grandissimo potenziale devono continuare a vedere lungo più lo fanno e meglio è più sono veloci e meglio è più fanno programmazione e meglio è quindi è giusta proprio metodologicamente la visione dell'assessore è produttiva poi però quello deve scatenare a catena effetti su territori e su cantieri di lavoro più piccoli in cui creiamo lavori in cui creiamo valori ogni giorno lì si blocca lì è più lenta la catena di generazione del valore noi un'esperienza che noi abbiamo fatto riguarda la sperimentazione su una nuova forma di linguaggio che è la realtà aumentata la realtà aumentata non è una tecnologia è una tecnologia abilitante fantastica ma è soprattutto una narrazione del territorio faccio un esempio in un posto nel nord Italia dove c'è un bellissimo sito archeologico non è la Sicilia però è bellissimo gli abitanti di quella città industriale che è Brescia non sapevano manco di avercelo quel sito archeologico attraverso l'uso intelligente la sinergia con le imprese creative con chi fa teatro con chi fa videomaking abbiamo creato un'esperienza di realtà aumentata e ovviamente ci abbiamo attaccato il marketing territoriale e tutto il resto oggi quel sito ha decuplicato gli accessi il sito archeologico di Brescia Romana questo ha generato un'economia della cultura che non c'era a Brescia e ha creato un piccolo effetto moltiplicatore niente di trascendentale però sicuramente oggi quando giriamo per Brescia ci dicono che bello che avete fatto questa cosa adesso c'è un sacco di bella gente che viene da tutto il mondo e viene a visitare questa roba qui è Brescia però si può fare e si deve fare anche a Gela ha parlato Antonio di esercizi di futuro tu non c'eri ieri abbiamo provato a immaginare che cosa sarà tra vent'anni tu prima parlavi di visione di immagine anzi colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i nostri tecnici che stanno facendo un lavoro egregio grazie a tutti tu parlavi di questo e già iniziava a fare visioni già iniziavi a fare il visionario vero se tu dovessi chiudere gli occhi e immaginare tra vent'anni che cosa sarà il nostro sud e raccontarcelo in breve come sai fare tu con una pillola come ce lo racconteresti ma diciamo nei nostri tempi verbali non c'è il futuro anteriore secondo me visto che tu parliamo di futuro deve essere un futuro anteriore quindi sarà postmoderno legato alle tecnologie e che prende la sapienza di quelli che ci hanno preceduto che sono stati delle donne degli uomini straordinari io credo che le rotte il mondo come andrà nella globalizzazione il sud ce la può fare ce la può fare anche con le nuove generazioni che si stanno dimostrando mi pare di vedere un po' meglio della mia generazione hai lasciato tutti sei stato talmente breve che hai lasciato tutti così il tuo futuro lo conosciamo quello prossimo nel senso che tu sei stato mi sembra la settimana scorsa in Australia ci racconti un attimo come gira e soprattutto quando potremo vedere questo Vede la Spromonte e quali sono le tappe dove lo fai? un altro cinema facciamo un cinema a Palermo per le scuole noi contemporaneamente all'uscita cinema vogliamo fare il cinema per le scuole invitando i ragazzi a vedere i film e principalmente questa è la cosa importante noi tentiamo questo primo esperimento col film di Calopresti con Midway un film straordinario dove vogliamo lì Calopresti che lo illustri ai ragazzi e ai giovani lo illustrerà un ufficiale di Marina complimenti io sono un uomo fortunato di aver incontrato Fulio Lucisano decisamente molto e ti invidio anche un po' sì assolutamente che mi ha insegnato veramente molto facendo questa esperienza insieme a lui di cinema e soprattutto mi ha permesso avere un prodotto incredibile per cui adesso mi sono ritrovato prima a San Francisco poi in Australia a far vedere questo film e la cosa che mi ha colpito veramente è questa cosa qua che dovunque vado incontro degli italiani è normale noi siamo un paese che siamo andati dappertutto eccetera che sono bravi capaci che a me in Australia i nostri immigrati mi hanno commosso ragazzi noi li rappresentiamo sempre in questa maniera un po' troppo sopra le righe eccetera ma il modo con cui si rapportano a noi al nostro paese alla nostra cultura è assolutamente commovente perché di un amore profondo che noi non riusciamo più ad avere rispetto a noi stessi e alla nostra terra io questa cosa qui è stato un insegnamento fortissimo ho cominciato a ridere andando a mangiare la pizza a Sydney e sono finito veramente con le lacrime agli occhi sentendo le storie di queste persone che questo paese gli manca moltissimo perché è vero che in Australia sono ricchi sono ricchi molto ricchi è vero che hanno le spiagge dove possono andare eccetera ma un posto come Mondello bello così qui oggi io il maestro tutti sanno ce ne siamo andati a fare il bagno oggi pomeriggio non lo troveranno mai più ce l'hanno abbandonato e ne hanno bisogno perché l'immaginario e la cultura crea benessere non solo giustamente come si diceva prima crea l'indotto le cose eccetera ma la cultura e l'immaginario crea benessere cioè vedere i posti belli ci fa star bene fare i film belli ci permette di star bene guardare un bel film ci permette il giorno dopo di avere un rapporto col mondo positivo e questa cosa qui il cinema ce l'ha nel suo DNA in questi giorni proprio facendo questo giro per il mondo mi sono chiesto ma perché noi andiamo in giro per il mondo e la gente adora il nostro cinema non parlo non del mio ma parlo del cinema dei nostri maestri Sellini Fellini De Sica eccetera ne abbiamo da buttare via lo ama la follia e mi sono chiesto ma cosa che abbiamo portato al mondo noi con il nostro cinema e l'ho scoperto in questi giorni noi mentre il cinema americano come dire è riuscito a vendere il proprio paese bene e molta coca cola in cielo per il mondo noi siamo riusciti a portare due cose fondamentali uno il nostro paesaggio esteriore che è bellissimo e due il nostro paesaggio interiore cioè noi abbiamo portato una dose di umanità in giro per il mondo che era necessaria e che non esisteva e questa cosa qui è una merce impagabile chi pensa agli italiani pensa all'Italia pensa a un paese umano dove le persone stanno bene dove si vogliono bene dove sono accoglienti e per questo dico questo film racconta una strada non un muro no? racconta la possibilità di esistere e se le persone hanno la possibilità di esistere diventano positive creative e sono capaci di vivere meglio e questo se si riesce a fare secondo me è la chiave per vincere e noi dobbiamo vincere al sud assolutamente perché noi siamo Magna Grecia Magna Grecia allora Cordaro Calopresti dice noi dobbiamo vincere al sud ma come? Quali sono le nostre migliori armi? Allora noi dobbiamo vincere al sud tre flash primo abbiamo certamente il luogo uno dei luoghi più belli del mondo sotto il profilo ambientale sotto il profilo monumentale sotto il profilo paesaggistico stiamo lavorando un esempio su tutti una nuova agenzia che gestisca le riserve 72 riserve naturali in Sicilia ciascuno ha fatto di testa sua le associazioni ambientalistiche gliele abbiamo riconosciuto hanno fatto un ottimo lavoro sotto il profilo della tutela ma sono mancate sotto il profilo della valorizzazione fase 2 la fase 2 deve essere quella di mettere in rete turismo cultura e ambiente a partire da parchi e riserve metterle in un circuito internazionale che guardi alla destagionalizzazione che guardi ad un nuovo sistema di governance che metta insieme istituzioni e stakeholders territoriali perché si possa trarre il meglio senza steccati e senza preconcetti semplificazione efficienza e quindi prodotto parlava poc'anzi Scuderi un esempio sapete quando è stata redatta l'ultima legge urbanistica in Sicilia e la legge regionale 71 del 78 fu realizzata ed approvata ai tempi del compianto presidente Pier Santi Mattarella abbiamo riscritto le regole dell'urbanistica in Sicilia si chiameranno governo del territorio e si basano su alcuni dati molto non ne posso parlare della legge in due flash primo un territorio un piano individuazione del piano territoriale regionale su questo verranno calati non più i piani regolatori ma i nuovi pug questi pug avranno soprattutto un dato saliente che non è soltanto quello della semplificazione ma è soprattutto quello del tempo della loro approvazione si passa pensate in Sicilia da 540 giorni a 180 giorni questo significa che ogni sindaco non soltanto avrà la possibilità di vedere attuato il suo piano regolatore ma sarà artefice e responsabile della sua idea di città che potrà pensare e realizzare certamente lo faremo concludo ultimo dato io sono convinto che in questa legislatura come vede corro quindi non vi faccio non vi occupo particolare tempo io sono convinto che in questa legislatura ci siano tante cose che possano essere migliorate però sono anche convinto di un fatto questa per noi è la stagione della semina in un tempo in cui probabilmente più che l'idea di super uomo che un po' ci viene da Tomasi dell'ampedusa e dal gatto pardo quella che dobbiamo combattere e battere la rassegnazione noi ce la stiamo mettendo tutta però lo stiamo facendo ad esempio in tema ambientale trasferendo una discussione che prima era dedicata ed era e si svolgeva soltanto nei salotti il tema ambientale era un tema salottiero spesso radical chic che non aveva nessuna refluenza sulla vita di tutti i giorni noi la stiamo trasformando in azione di governo concreto e per questo sono convinto che questa stagione della semina porterà a dei frutti buoni lo dobbiamo certamente al nostro glorioso passato e alla nostra storia ma lo dobbiamo soprattutto al futuro dei nostri figli grazie giuseppina ora dobbiamo tirare le fila un po' senza strappare i bottoni però perché sennò poi l'assessore comincia no no scherzo è bello questo dibattito faccio la giornalista ciascuno può dire quello che crede quello che gli pare c'è un grande rispetto un grande confronto per le opinioni di tutti ci mancherebbe siamo in democrazia a te le conclusioni sì diciamo molto rapidamente allora mi pare che un po' questo è emerso un po' nella logica di tutti gli interventi probabilmente la prima cosa è che occorre passare da una mentalità diciamo dei soggetti che prendono iniziative a una mentalità di rete e dunque di una promozione complessiva in cui all'interno di un progetto collettivo si riesca a portare avanti diciamo anche la cultura come motore dello sviluppo questo forse è il primo passaggio per fare questo secondo me occorre cultura di impresa l'ha fatto la Spagna da moltissimi anni cosa ha fatto la Spagna per esempio solo per parlare del turismo ha stretto degli accordi con i paesi del nord Europa della Scandinavia quindi tutti gli anni 8-10 mesi all'anno arrivano gli aerei con gli anziani sopra e non c'è più il problema di avere un turismo stagionale come accade un po' da noi soprattutto in provincia non nelle città perché per esempio Palermo è diventato un gioiello da questo punto di vista Palermo capitale della cultura italiana diciamo è stata credo abbia avuto un incremento e anche un miglioramento di quelli che sono i servizi museali ma anche diciamo gli eventi di cultura che sono stati all'altezza nazionale internazionale quindi per carità e la provincia diciamo quella che un po' risente un po' di più e le altre province a parte Catania dove c'è il terzo aeroporto più importante d'Italia questo ne convengo per cui la cosa diciamo secondo me a mio avviso più importante è che seguiamo una cosa che ha già fatto la Spagna cioè partiamo andiamo su chi coordina poi non so se la regione come le diceva gli stakeholders che sono diciamo sul territorio coordinati a livello regionale si va e si offrono dei pacchetti cioè dei pacchetti in cui si mettono insieme ristoratori esercizi commerciali e affittacamere tutti che come dire in cambio del fatto che lavorano per tutto l'anno sono in grado di come dire di uscire dal nero ed entrare nella legalità fiscale questo significa per 8-10 mesi all'anno hanno degli introiti che possono tranquillamente dichiarare al fisco perché comunque sono superiori rispetto a quelli che in nero avrebbero nell'arco di 15 giorni un mese per fare questo c'è bisogno di una grossa iniziativa della regione perché da soli non lo possono fare ci sono territori che in qualche modo sono già organizzati certe volte mi fa pure rabbia vedere che una cosa così in piccoli territori è stata fatta dal russo che si trova lì ha messo in rete tutte le camere di 3-4 paesi arrivano gruppi di russi la stessa cosa l'ha fatto un tedesco Montalbano e Licone tutte le zone intorno prese credo tipo 4.500 tedeschi che tutti gli anni vanno sulle montagne a godere dell'aria e a fare queste operazioni noi non siamo cretini cioè quelli del sud siamo probabilmente abbiamo un'intelligenza viva le cogliamo le cose bisogna metterci lì e decidere di fare rete nella legalità questo significa abbandonare anche un po' questo modo un po' diciamo soggettivo di fare le cose fidarsi della struttura pubblica e fare rete se non passiamo a questa modalità noi siamo schiacciati se non passiamo a questa mentalità perché ormai il mondo è globalizzato ci vuole niente a prendere un aereo e andare a finire in una parte del mondo che non sia la Sicilia ci vuole niente quindi approfittando del fatto che abbiamo un grande patrimonio archeologico approfittando del fatto che tutti ci amano per il cibo per la qualità per approfittando di un sud che è ricco e che sa dare anche secondo me ci vuole un'iniziativa che parte dalle regioni coordinate e che aiutino diciamo modelli virtuosi dopo di che voglio rispondere anche a lui per dirgli io so che lei ha firmato si ricorda anche quando? il contratto di costa il contratto di costa l'ha firmato il presidente della regione perché è il responsabile della struttura per il dissesto idrogeologico quando è stato firmato è stato firmato tra marzo e giugno del 2018 perfetto e da allora che non si è messo in moto niente perché non c'è nessun lavoro operativo per me è operativo quando vedo e quando divento operativo io le lascio i recapiti lei mi chiama io vengo a documentare che quel progetto è partito mettere in sicurezza le coste è la cosa più importante in questa fase daremo un segnale di civiltà perché le nostre coste sono ad emergenza totale davanti alla crisi climatica dunque io credo disponibili a documentarla io aspetto perché appena arriva questo significa togliere il lasciamentificazione nei fiumi io so che cos'è questo contratto di costa e l'ho trovato una cosa molto intelligente cioè cominciare a smantellare diciamo a fare in modo che l'acqua fluisca verso il mare si ricostituiscano le spiagge e tutto questo mette in sicurezza tutto e dà un sacco di posti di lavoro l'ho trovato molto intelligente quando parte lei mi chiama e io vengo a documentare vuole un diritto di replica altrimenti vi vedete stasera ma io non desidero assolutamente replicare la dottoressa Paterniti della quale colgo anzi invece lo stimolo e quindi non la vedo come una critica la vedo anzi come un pungolo e quindi la ringrazio però ecco vorrei allora senza correre questa volta magari utilizzare due minuti che ore sono scusate io non porto l'orologio quindi è quasi un branch ecco volevo allora utilizzare gli ultimi due minuti per dire questo nel 1989 veniva per legge istituita non parlerò per 30 anni ovviamente sarò molto veloce venivano istituita le autorità di bacino del distetto idrografico in Italia sono otto in Sicilia con 28 anni di ritardo l'ha istituito quest'assessore e questo governo quando io mi recai la prima volta a Roma all'agenzia di coesione la dottoressa Gros presidente quando dissi noi a maggio avremo l'autorità di bacino si mise a ridere perché purtroppo dobbiamo dircelo ma senza guardare al passato sempre guardando al futuro delle precedenti classi politiche un po' si sorrideva oggi questo sorriso è finito oggi quando noi ci sediamo ai tavoli romani o europei non c'è più sorriso c'è competenza c'è confronto costruttivo quando a maggio sono tornato e gli ho portato un plico dice bello l'ha letto bello questo disegno di legge no dottoressa non è il disegno di legge è la legge abbiamo istituito l'autorità di bacino senza autorità di bacino era impossibile leggere il territorio perché l'autorità di bacino del distretto idrografico serve proprio a leggere il territorio soprattutto con riferimento ai corsi d'acqua abbiamo fatto partire questa nuova struttura l'abbiamo fatta ripartire la struttura del distesto idrogeologico con quest'idea del contratto di costa dopo 30 anni per la prima volta noi abbiamo finanziato non soltanto il contratto di costa del messinese e adesso ce ne sono altri due nitinere ma abbiamo soprattutto pulito e sono già finanziate 80 aste fluviali come non si era mai fatto attività che è dell'autorità di bacino che abbiamo costituito e che prima forse non si era fatto perché non c'era lei però mi parla di ripascimento delle spiagge e allora io concludo io le dico quando una cosa di queste che lei ha citato diventa operativa mi chiami che io vengo a documentare me lo devi dire perché a quel che mi risulta e ci sono tutte le firme ma è tutto bloccato nei cassetti quindi ci vuole una cosa un qualcuno che vada lì e sblocchi perché i soldi ci sono quando le cose diventano operative possiamo dire che abbiamo messo in moto occupazione protezione delle coste abbiamo fatto tutto un capolavoro ma bisogna farlo io mi rivolgo ovviamente ai cittadini e quindi spero che siano loro poi a darmi conferma delle cose che stiamo proponendo e però glielo faremo sapere perché è giusto che si faccia anche comunicazione concludo sull'altro tema che aveva trattato la dottoressa Paterniti il ripascimento delle coste in sei mesi noi abbiamo messo in sicurezza cosa mi è accaduto prima la scala dei turchi nel maggio 2018 abbiamo finanziato il ripascimento di Eraclea Minoa altro patrimonio straordinario partiranno i lavori fra qualche mese appena il progetto sarà operativo ma voglio dire soprattutto proprio perché abbiamo cercato di eliminare alcune distonie che per esempio prevedevano seppur nel rispetto delle leggi di mercato che la nostra sabbia andasse a Monte Carlo oppure da un'altra parte a costruire dei quartieri l'articolo 15 del collegato che verrà approvato definitivamente martedì prossimo ma l'articolo 15 è stato già approvato un articolo che abbiamo scritto su iniziativa di questo assessore prevede che le sabbie siciliane fermarestando la libertà di mercato rimangano in Sicilia perché prima viene il ripascimento delle coste siciliane saranno stati bravi quelli prima di noi però questo ad esempio come tutte le altre cose che ho detto avevano dimenticato a farle e quindi io la chiudo semplicemente così la crescita del mezzogiorno poi provvederà il presidente Fote a farvi scambiare i numeri di telefono così poi non appena no ma una cosa Alessandro la crescita del mezzogiorno passa dalla cultura ma anche dal ripascimento delle coste e su questo direi che possiamo ringraziarvi tutti siete stati splendidi domani mattina si riparte si riparte alle 9.30 proprio con le sollecitazioni del nostro direttore Giuseppina Paterniti vi aspettiamo qui alle 9.30 il domani grazie buona serata